Mangerò una pizza in ogni regione d'Italia per scoprire quale sia davvero la migliore La sfida? Riuscire ad attraversare 20 regioni tra macchine, navi e aerei in meno di 7 giorni Per riuscire a battere il record mondiale Partiamo? Partiamo? Sì E? E andiamo in Umbria? No davvero stiamo partendo davvero adesso Questo è il percorso, tranquillo Tranquillissimo Perfetto, prima tappa un'ora e mezza Quanto ci mettiamo? Sette? No, quattro Come se non è quattro, ma stiamo sui cinque Mezz'ora, la prima tappa L'obiettivo del primo giorno era fare Umbria, Toscana, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta Praticamente impossibile Orvieto e i primi 7 euro se ne sa andate Vabbè, noi a Orvieto ci stiamo, quindi adesso ci godiamo la view e cerchiamo una pizzeria Olè, Duomo di Orvieto, eccoci qua, trattoria, osteria Sembra mezzo chiuso Buongiorno, siamo tre La vicina è chiusa, mi dispiace Chiusa? Eh sì Ciao, siamo tre Ragazzi c'è una pizza che si chiama Montesi Ma che impazzesca Lo giuro Mi sa che me la devo prendere con i forzi È buona, esatto Soufflé Olè è arrivata Questa è la pizza Montesi, se non è un segno questo Prima pizza di 20 Uè, è proprio buona No, comunque buona per me, 8 E se li poi Mega in ritardo, ragazzi, dobbiamo stare qua alle 10 di mattina Sono le 4 E vai così, 7 ore di navigatore Per arrivare in Valle d'Aosta passeremo per la Liguria e tutto qua Fino abbecchiamo la prima cittadina della Toscana Entriamo, pizza lì ed è la seconda Casone, primo comune in Toscana Prossima tappa, pizza Tutto a posto, bro? Pizza, cioè bro, te pensi che la torre di Pisa sia davvero storta? Bro, c'è un po' di palese Ma ti pare che è storta? Stamma assurda, ma non l'ho mai visto Trappato di nessuno che fosse dritta Macchina parcheggiata a Pisa e si va alla torre Sei pronto, bro? Sono molto curioso di vedere come è davvero Vediamo la tua reaction È storta Ma che è storta, zì? È un po' storta, dai Vabbè, mo che la vediamo bene lo capisci Te l'ho detto, zì? È storta, no? Ma che cazzo ti dici, bro? Ma te pare storta, frate? Non, vuolta Ma lo vedi che sto inclinando il telefono? Ma è storta Io vorrei ripreso, Luca Ma vedi che pure questo albero lo vedi storto? Esatto Perché quello è dritto? Ma quest'albero è storto, bro? Ma quello è dritto Ah, bro, te sta piacperando, Luca Guarda che siamo a buon punto Perché oggi, che è il primo giorno Abbiamo già fatte due sul den Olè, pizza per me Io sono l'unico con la pizza in realtà Cioè loro panna e prosciutto, pollo A me non mi spira più di tanto Questa Manca a me Ma vabbè, oh Non è male E niente, raga, qua c'è andata male Non so perché si staccava tutto E mi rimaneva solo l'impasto in mano Non era neanche male di sapore in realtà Questa, raga, voto 5 e mezzo Si riparte Prossima tappa Genova 1 ora e 45, vai E siamo a Genova Lì dietro c'è una pizzeria Che abbiamo visto sotto un ponte E' una pizza d'asporto Eccola lì Potete capire il casino per arrivare a Genova E trovare un posto aperto E' sempre una pizza d'asporto Ragazzi ce l'hanno fatta Grazie mille Molo 20 a Genova Venite qua Olè, ce l'abbiamo Però già dall'aspetto Mi sembra meglio di Pisa Siamo a tre Bro, sono serissimo Non sto a giocare Forse è la migliore delle tre Non sto a scherzare Quindi darei 8 e mezzo ragazzi No andiamo perché dobbiamo arrivare a Torino adesso E poi andare a dormire in Valle d'Aosta Sono le 11 di sera Sei pronto? Voglio morire Non so quando inizieranno ad odiarmi Per quello che gli sto facendo passare Siamo ad un autogrill E qui faremo il Piemonte Ovviamente per riuscire a fare il record mondiale Dobbiamo sbrigarci il più possibile Quindi raga in base alla situazione Prendiamo la pizza più facile Pezzo di pizza ce l'avete? Niente, ci è andata male Prossimo autogrill L'1 e 38 La nostra unica speranza è trovare una pizza a quest'ora Dai l'ultima tirata L'1 e 45 Ci manca ancora un'ora di macchina Per arrivare ad Aosta dove c'è l'hotel Ma il Piemonte l'abbiamo appena fatto Questa è la peggiore Davvero? Vabbè Ci becca un 5 Dai raga una tirata sola Che stiamo in Valle d'Aosta Ce la possiamo fare Ci può fermare solo un attacco cardiaco Che arriverà Tutto questo lo sto facendo Per superare il Pulcino Pio Il mio acerrimo nemico Iscrivetevi So che possiamo farci Aosta ragazzi Ce l'abbiamo fatta Mancano 5 minuti all'hotel Non mi pare vero Ci hanno lasciato tipo dei codici da inserire Quindi ora ci divertiamo Perché non funzionerà Ah sono le 3 Ma allora ci hanno dato il codice Per sbloccare la porta Sì E andiamo Ci dovrebbero essere le nostre chiavi qui Oh attenzione Montesi Vabbè regà dai 1 di 4 Finito il primo giorno Ed eravamo distrutti 10 ore di macchina 800 km Dovevamo farne in tutto 4000 in 6 giorni Per un totale di 50 ore di macchina Grazie a Sony Che mi ha inviato la telecamera L'obiettivo Il microfono Trovate tutte quante le info In descrizione Ah ok Se può fare Ce l'abbiamo fatta E effettivamente Ci potrebbe essere una bella vista Quindi Manco tanto Giorno 2 Siamo andati subito A fare colazione con una pizza Perché l'obiettivo del secondo giorno Era Lombardia Trentino Veneto Friuli Emilia Marche E Abruzzo Anche qua Impossibile Ma è stato così rincoglionito in vita mia Purtroppo aveva solo una pizza Confezionata Ma va bene così Mi è arrivata L'hanno pure tostata Non sembra manco male Colazione che stanno Molto meglio di una pizza Gli diamo un 6 Comunque meglio di quella pizza Sicuramente La cosa bella è che passeremo Praticamente ogni paesaggio italiano Montagna Mare Pianura Qualunque cosa Quindi vedremo veramente Tutta l'Italia Quanto è bello Direzione Bergamo Quindi fra 2 ore e un quarto Siamo in Lombardia Siamo a Bergamo Ce l'abbiamo fatta Davanti alla statua di Garibaldi Un altro segno Non so dove stiamo a Bergamo Penso in centro Abbiamo trovato una pizzeria Non sembrava male Andiamo Com'è stato lavorare in questo viaggio Però t'ho visto bello Settato Ci siamo Regà ho già ordinato la pizza Ma prima un'insalata Perché ogni giorno intero Che mangio solo pizza C'è Di che stiamo a parlare Questa finalmente vincerà Questa vince il primo posto La finisco e do il volo Clamorosa Senza dubbio regà La più buona Io gli do 9 Non so perché a Bergamo Facciamo le pizze napoletane Però sta proprio piovendo Ci dobbiamo sbrigare Perché adesso Trentino Entrati in Trentino Ci diremo un paesino a caso Appena arrivati Attenzione Siamo ad Alvio È un paese di 4.000 abitanti Ed è il primo paese Sul confine Del Trentino Alto Adige Tra una fetta di pizza esposta Aveva un aspetto gravissimo Infatti glielo ho chiesto E mi ha detto di no Però ci stanno facendo una pizza A me dispiace stare Così poco in Trentino Però veramente Siamo appena entrati E i paesaggi Sono qualcosa di spettacolare Siamo completamente in mezzo Alle montagne Pazzesco E il Trentino è fatto Assaggiamo Sembra 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 Oh filante 5 euro Forse è la più economica Che abbiamo pagato Fino ad adesso Sono quasi sicuro Che sia sorgirata Però Non ci può stare Che me l'ha fatta in 5 minuti Non qui abbiamo un forno Sì una tappa a Veneto E ci sta provando dentro Quindi adesso la finiamo in macchina Ti direi Vediamo un 6 Due ore Sapete qual è la cosa divertente Che domani a mezzogiorno Vamo stare a Napoli Che c'è una sorpresa incredibile Ok quindi non solo dovevamo fare 8 regioni in un giorno Ma anche svegliarci all'alba Per arrivare a mezzogiorno a Napoli Olè Vicenza Ci siamo Uh siamo arrivati Dai Stranamente ogni regione in cui arriviamo Inizia a piovere Non so come sia possibile Olè Gli ho spiegato il video E mi ha detto che questa è la più buona del Veneto Non sembra male Anche se è bollente Eppure questa mi sembra mezzo stile napoletana Un botto buono Io gli darei un bel 8 e mezzo E adesso Friuli Un'ora e mezza alle 8 Stiamo a Pordenone E nel viaggio ci finiamo questa pezza E calcolate che questa Era l'ottava regione Quindi Siamo neanche a metà Siamo neanche a metà L'unico modo per cui lui rimanga in vita Era trovare una persona che guidasse questa notte E domani mattina fino a Napoli Quindi chiamiamo un amico di Simone E dopo avergli spiegato tutto Ci richiama Ciao Oh Va bene E dai Ci avrebbe raggiunto quindi da Roma a Bologna in treno In modo da guidare lui fino in Abruzzo E si ripaga Vai Io non sto scherzando Abbiamo speso molto di più di casello Che di benzina Siamo usciti a Porcia Che è il primo comune che abbiamo trovato Del Friuli Pizzeria La scimmia Let's go E ce l'abbiamo Non me l'ha tagliata Olè Pizza tagliata E vi dirò Ho visto delle pizze sgravate gigantesche Dopo enormi Infatti Secondo me Questi Sono forti Ah e se non credete che lo stiamo facendo davvero Guardate l'insegna là dietro Controllate pure sulle mappe Dov'è Vedrete che è in Friuli Comunque assaggiamo Questo è stra buono Ragazzi lo so che dico sempre le stesse cose Però che posso Prendere sempre una margherita Cioè basta Super buona 7 7 Onesto Onesto 7 Tra due ore dobbiamo essere a Bologna Voglio morire Alle 11 stiamo a Bologna 10.47 Stazione di Bologna Pizza kebab Sperando che non ci rapino In questi 5 minuti in stazione Stiamo aspettando i rinforzi Come al solito piove Non so perché Eh questa Questa non è il massimo Però regà è ovvio Cioè quando uno viaggia Si deve adattare Eh no Sono passate 20 persone bro Loschissime Quindi siamo entrati al bolo Senza dire niente Regà purtroppo gli diamo Un 5 e mezzo A questo Non mi è piaciuto quanto Ci farà un po' da carburante Per le prossime 3 ore Regà sono arrivati i rinforzi Rinforzi Ci ha salvato la vita Incredibile Lo salvo Sono vivo Perché stasera Vabbè Mo ci aspettano Quanto? 3 ore? Siamo arrivati Com'è andato sto viaggetto? Per ora Mi fanno molto male le gambe Devo essere sincero E siamo appena partiti Comunque siamo nelle Marche Quindi adesso Si prende sta pizza Ah una fogaccina Grazie Il giorno è preso Sì Siamo ad un autogrill A questa volta Gli diamo 4 e mezzo E niente Continuiamo Fra un'ora e mezza Siamo in Abruzzo 1 ore 18 e vai 1 ore 2 e mezza Siamo arrivati ad Alba Triatica E questo qui dietro È il nostro hotel Ovviamente a quest'ora Non c'è il check in Quindi ci ha lasciato Le chiavi nascoste Anche oggi ce l'abbiamo fatta Siamo a 11 su 20 E domani Direzione Napoli Andiamo che non c'è tempo Abbiamo un quarto d'ora Per uscire Mangiare E partire Se no Non arriviamo in tempo Barretto al volo Niente non ce l'avevano Mentre gli altri fanno colazione Io mi sbrigo a sto bar A vedere se hanno delle pizzette Comunque abbiamo Completamente cambiato scenario Cioè Siamo sul mare Ce l'abbiamo fatta Ce l'hanno messo 20 minuti Per farmela Ah ok Mortadella Non so che formaggio sia Regà Ce l'abbiamo fatta Io non so veramente come Ci sta E che me l'ha fatta davanti Pensavo fosse tipo No Assurda Vabbè regà Alba Triatica è stato bello Gli diamo un 6 Ci siamo goduti il mare Per un minuto Ce l'abbiamo subito andata E correre a Napoli Nel prossimo episodio Arriveremo a Napoli Da Sorbillo Poi Molise Basilicata Puglia Calabria Sicilia Lazio E Sarbenna Così scopriremo davvero Quale sia la pizza più buona D'Italia